Non so se ve ne siete accorti, ma vi è finita la carta igienica. Carta? Hai detto carta igienica? Usavano rotoli di fogli di carta morbida nel XX secolo. Sono felice di vedere di felici, ma dove dovreste tenere la carta igienica? Avete una mensoletta con sopra tre conchigliette. E lui non si sa servire delle tre conchigliette! Capisco che la cosa può risultare imbarazzante. Non è possibile! Sei proprio tu, Spartan! No. Zack! Zack Lab! Che ti è successo? Sono invecchiato. Mio Dio. Ricordo di quando eri un moccioso allievo pilota. Sì, ma poi mi hanno messo a terra. Cazzo! John Spartan, lei viene multato di due titoli per violazione della legge sulla moralità verbale. Ritorno subito. Sembrano buoni amici, ma lui gli si rivolge con tanto di quel turpiloquio. Se avessi letto il mio studio, sapresti che era così che i maschi insicuri facevano lega fra di loro. Io lo sapevo. Grazie mille, figlio di puttana, testa di cazzo, fottuto, rompi i palmi, strunzo di merda. John Spartan, lei viene multato di cinque titoli per ripetute per un più unico. Sono meglio delle conchigliette. Ci vediamo prossimamente. Grazie mille. Grazie a tutti.